Hey, io sono Giulia Zanotti e siamo con mia sorella. Io sono Giulia Zanotti e lei è il mio cellulino. Oggi faremo un nascondino. Però si può far piccoli, ve lo dico. Però ve lo dico di già. Mi saluta anche me. Ok ragazzi, oggi giochiamo a nascondino. Quindi iniziamo. Ok, chi conta? Ok, conta Matti. Conta lui. Ok, comunque ci si può far piccoli. Sì, sì. Vado? 3, 2, 1. Ok ragazzi, ci dobbiamo nascondere chi sta contando Matti. Ho un po' di ansiettina però. Io ho questa tecnica. Basta, e forse i piccoli. Non so come mettermi. Guardatevi. Forse tutti azzurri. In pratica. Per fortuna. Ho un po' di paura. Metto un vestito tutto azzurro. No ragazzi, ho trovato un nascondiglio. Anch'io. Bellissimo. Ok. Oddio ragazzi, ho un po' di paura. Voi non so ragazzi, sentite la Mary, però se la sentite è meglio. Ok. Allora ragazzi, e vi devo dire una cosa. Iscrivetevi al canale, lasciate like. Iscrivetevi al canale, lasciate like. E ragazzi, la Mary ha creato una nuova maglia. Per chi magari di solo 5 robux, magari può abbassare il codo. Cioè magari, chi ne fa anche un'altra gratis. Così anche chi non ha i robux e chi è il nostro pane, può comprarsela la nostra maglia. Poi ci sono anche i pantaloni, ma non le spiane. Ragazzi, ho un botto paura. Ok ragazzi, ho un botto paura, perché non so che sia. No, prima di tutto bisogna togliere anche la faccia. Oddio. Ok. Mary, Mary, sono qui qua. Non devi, non devi andare nella faccia. No, mi sono nascosta benissimo, ve lo dico di giaccio. Chi mi troverà sarà un genio. Ok, raga, intanto guardo un po' le telecamere. Tana, 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 Tana. Tana, ha fatto Tana, boom, ha fatto Tana, ha fatto Tana, Tana, super Tana. Ma quindi nessuno mi ha già visto? Non sai, non me lo dico. No, vabbè, tanto io non devo comprare, quindi. No, eh, no, no, Matti, non si dicono queste parole. Allora, va bene, va a conto io, devi cercare Emma. Perché Emma? Eh, io scusa, non esisto. Brava! Tana, Tana, bravissima! Io non esisto proprio, eh, Mary. Ah, io suggerimento, raga, non so, la mia sorella. No, Cese, è un genio! Eh, grazie mille. Matti, Matti mi sente? No, Matti non mi sente. No, allora, in pratica la Ceci si è nascosta. No, tu stai zitta. Dentro, dove si, dove, là, dentro la vasca. Cioè, mi sa che la vedi da qui sotto. Cioè, dentro una vasca l'idromassaggio. La vedi? Quella testa azzurrina qua, da qui la vedi? Ciao! Quella testa azzurrina, quella lì, guardate, questa qui, questa testa azzurrina. No, non mi ha visto, non mi ha visto, è di sopra, è tornato e non mi ha visto. Raga, scrivete qua sotto nei commenti, Cecilia Genio, scrivetemelo, vi prego. Se la Ceci fa Tana libera tutti, raga, ve lo sto traducendo perché non so se, sentite la Mary, se la Ceci fa Tana conta di nuovo Matti, quindi vai Ceci, allora, rimani nel tuo nascondiglio, io, io ti aiutoce, rimani nel nascondiglio. No, tu digli che mi sono nascosta di fuori. Non è dentro niente, non è dentro niente. Esatto, esatto. Ok, esci, esci, fai Tana, fai Tana, 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 esci, veloce, 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 no, 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 te patentas, mh, patentissima, mi raccomandaci, aspetta, ok, no, 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 dove sei? Vado. No, no, è Cevati, 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 Ceva, Cevati. Devi scrivertela, Provo! L'ho scritto prima di te! No, tocca a lui, scusa. Tocca la Mary, tocca la Mary, ho già paurissimo perché la Mary conosce tutti questi posti, quindi io no. E conoscete tutti questi posti, questa casa non c'è niente, però la Mary. Io sì. Io sempre stacca, no, spera Mary, io non so orientarmi, quindi, no, no, ma c'è un lento. Io certo che so orientarmi. Cioè, raga. No, fino a quanto conti? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Non mi troverà mai nessuno, ve lo dico di già. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Anche io ho paura, c'è. Va, vada, dove fai? Porca di là. Mi stavo per te. Oddio. Intanto riguardiamo le telecamere. La Mary è iniziata, raga, la Mary è iniziata. E intanto non vedo niente. Ok, la Mary è andata di sotto. Cino, mi direi che stai guardando le telecamere. Sì. E lei, ci ho visto. Sos. Sos. Ecco, qui c'è la Mary. Non ti odio mai, Mary, dove sono? Oddio, ho molto paura. Mary, se vuoi ti darò un indizio. Sì, grazie. Sono... No. Sono nel... Tipo... Nella cucina, vicino alla cucina. Sì, appunto. Perché c'è la nebbia? Ma fino... Mi fanno grazie. Vabbè, non sono così tanto vicino alla cucina, però. Cioè, sono nel... Nel piano... Dove si fa... Sala soggiorno. Dove si fa... Bravissima, qui. Ti sto vedendo dalle telecamere. E raga, bisogna dire i permessi, però. Se sei detto tipo... Io te l'avevo già dato il permesso. E io Mary non ti sto vedendo, cioè. Ok. Raga. Non ci credo. Non mi ha ancora visto nessuno. Aspettate. Adesso sapete cosa dico. Aspettate. Aspettate cosa dico. Ma Mary, detto tu lo sai. Capisci. No, ma l'è si vero, oi, cioè. Nó, ti vedo. Non sei mai per un cane. Ok. Ok, raga. No. No. raga hanno trovato la ceci oddio sono set ha fatto Tana adesso conto io manco io raga manco io Tana Tana ok 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 conto io e conterò fino a 30 1 2 3 24 25 26 30 sono a 30 guardiamo dentro qui guardiamo qui dentro lenta come una vecchia no oh ti raga ho un botto paura non so dove sia cioè dove sei spera qui c'è qualcuno dove? mi dispiace ho visto una Tana raga ho fatto Tana ho fatto Tana ti è eh no ho fatto Tana io cioè scusa ok andiamo a vedere qui oh oh questo è un ascon io raga io ho visto qualcuno andiamo dalla Mary chi c'è chi c'è io ho visto qualcuno dove? io non ti dico ho visto le telecamere ho visto proprio te ho visto le telecamere ti ho visto Mary ciao ormai l'ho visto vai Mary fai Tana fai Tana cioè non so se era le è tutta nera la Mary lo sapevo no ero io ero io nera allora sono una scarsa a contare vai Mary balliamo insieme va guarda tu c'è lui guarda che bravi siamo un aiutino per cercare Matti no no ah guarda c'è ancora cerca Matti che scazzo che sei mi metà dici vediamo 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 no Matti no Matti non sta giocando come non sta giocando vabbè raga allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ciao raga iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e non perdetevi nessun altro video e per la fine guardate cosa fa ho messo la vostra magari quella con i coppia che costa 5 robux la prendiamo forse noi con il t-shirt canale Ele io vi mando ragazzi e ciao ciao raga un bacione seguitemi anche l'Ele ciao raga sì ragazzi ciao ciao se volete sapendo io mi chiamo su Roblox con 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 io invece snacapuzzo20 ciao ciao